E su esse è un mare da salvare. È un caldo pomeriggio estivo. A Loris piace pescare con suo papà in mezzo al mare. Che acqua limpida! Il mare è così bello che persino il sole si fa un bel bagno. Mentre il sole si divertiva a fare bellissimi tuffi, i due pescatori aspettavano che qualche pesciolino focasse al lamo. Ecco che Loris vide un pesce chiedere aiuto. Stava molto male, aveva un tappo incastrato in bocca. Grazie Loris, mi hai salvato. Tutti questi rifiuti non fanno bene al mare. Sei tranquillo amico pesce, libereremo il mare da tutta questa robaccia. Una rete non basterà raccoglierli tutti. Vai a riva pesce e vai a chiedere aiuto agli altri amici pescatori. Amici pescatori, aiutatemi, vi prego. Se i pesci volete salvare, i rifiuti dannosi dovete pescare. In un battibaleno, Loris e gli amici pescatori raccolsero tutti i rifiuti. E adesso cosa ne facciamo di tutti questi rifiuti? Tranquilli amici, potremmo riciclare. Sapete, l'ho imparato a scuola. Vuol dire trasformare i rifiuti in oggetti nuovi. Per fortuna esistono i bambini. Grazie a Loris, i pescatori e i pesci possono ammirare questo mare dall'acqua così cristallina. Grazie a tutti.